Ciao da Valentina, la prof di LinkedIn. Oggi parliamo di raccomandazioni. Cosa sono le raccomandazioni? Beh, per gli italiani le raccomandazioni sono qualcosa di negativo, invece per LinkedIn sono qualcosa di positivo. Cosa significa? La raccomandazione come nasce in origine è la lettera, la lettera di presentazione che il tuo amico o l'amico di tuo padre ti fa per portarla al datore di lavoro, dove dice io lo conosco questo ragazzo o questa ragazza, molto bravo, persona onesta, perfetto, puoi assumerla secondo me. Poi ovviamente il datore di lavoro o il cliente in quel caso deve confutare, no? Se sei bravo o brava, però già quella ti dà qualcosa in più, anzi direi molto in più. Io ho delle raccomandazioni su LinkedIn di parlamentari, di personaggi di spicco del mondo del marketing, con i quali ho realmente collaborato, ho fatturato e quindi sono i miei testimoni. Bene, vai a correre a modificare il tuo profilo, mi raccomando, chiedi le raccomandazioni. Ciao da Valentina e esagera sempre!